Il manuale di sopravvivenza del presidente di seggio elettorale è un libro che io avevo già pensato da tanto tempo, da quando appunto avevo iniziato questa attività di presidente di seggio. Non voglio naturalmente divulgare o dire o spiegare a nessuno nelle leggi, nei regolamenti o i modi di fare, bensì riportare delle esperienze che appunto io ho maturato sul campo, delle esperienze talvolta anche comiche, delle esperienze molto significative tra l'altro. E si parla di molti personaggi, di tutti i colori quali appunto gravitano attorno a un seggio elettorale durante le elezioni. Quindi parlo dei politici, parlo degli scrutatori, dei rappresentanti di lista, degli elettori naturalmente, ma anche degli impiegati comunali, delle forze dell'ordine. E' un libro che si può leggere dal primo all'ultimo capitolo, dall'ultimo capitolo al primo ma anche a saltare. Lascio sicuramente al lettore il desiderio di leggerlo e si legge tutto ad un fiato. E' un libro, un pocket che avrete modo di leggere durante queste vacanze e anche dopo. Grazie a tutti.